Musica Bentornati all'appuntamento con le previsioni di Meteo One. La campana anticiclonica prenderà possesso del Mediterraneo centro-meridionale, continuando ad apportare condizioni di bel tempo sulle regioni meridionali, mentre su quelle settentrionali lascerà spazio al passaggio di un fronte atlantico, che apporterà piogge e nevicate principalmente sulle zone alpine. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per venerdì 3 marzo. Sin dalle prime ore della giornata, tempo prevalentemente stabile, con il rischio di foschie e nebbie. Nel corso della giornata, soleggiato è stabile ovunque. In serate, invece, il tempo sarà stabile su entrambe le regioni, con il rischio di banchi di nebbie nelle vallate della Murgia Barise e del Materano. Per quanto riguarda le temperature, risulteranno stazionare con tendenza ad aumento nei valori massimi. Soffieranno venti deboli meridionali e, per quanto riguarda i mari, mosso il Tirrino e lo Ionio, poco mosso invece l'Adriatico. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Oggi ringraziamo il nostro telespettatore Luigi Marzo per questo ultimo tramonto infuocato dell'inverno meteorologico nel bellissimo scenario di Lecce. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleappula, oppure alle email che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.